Allora, Firenze 28 gennaio 2024, come potete vedere, io sono qui a Firenze in Piazza Duomo e vi adesso vi sto a presentare una persona, Pasquale. Ciao Pasquale, come stai? Ehi, sono sempre male, invece devo vedere la storia. Ascolta Pasquale, allora io lancio un appello al sindaco di Firenze, a tutte le istituzioni, al fine ti diano un aiuto. Pasquale staziona qui alla libreria Libraccio, in Piazza Duomo praticamente. Da quanto tempo sei qui Pasquale? Sono qua 5-6 mesi che dormo qua. Non ti ha aiutato nessuno? Non ti ha aiutato nessuno? Hai fatto domande al sindaco? No, non l'ho mai fatta perché è inutile che faccia la domanda. Allora ci penso io, posso mandare in onda questo video? Allora io mi rivolgo a tutti questi figli di buona donna, di politici a Palazzo Vecchio e li conosco tutti. Allora c'è questo nostro cittadino, questo nostro... 53 anni. 53 anni hai? Bene, di Napoli, che per ragioni tutte sue adesso vive qui per strada. allora o vi muovete a venire a dargli una mano a questa persona oppure vi muovete perché non è assolutamente concepibile che in un contesto del genere dove potete vedere ci sono signori, turisti, passano e se ne strafottano. Io invece mi sono fermato, va bene? Cosa ti manca? Tutto praticamente. Manca tutto. Tu dove sei da Napoli? Sono di Torre Annunziata. Torre Annunziata, fai un lavoro normale? Sì, ma adesso non c'è più lavoro. E sei finito per strada? Ho perso la mamma. Hai perso la mamma? E sto per la strada. Eh, anche io ho perso la mamma. Come si chiamava tua mamma? Angela, guardo Angela Maria Teresa. La mia si chiamava Graziella. Allora sindaco Nardella, vuoi muovere il culo? Vuoi venire qui a dare una mano a questa persona? Eh, tutti i politici di Firenze, in special modo, cosa c'è? Giovanni Donzelli, che sei a Palazzo Chigi, perché non passi da qui? Eh, Draghi, perché non passi da qui? Torselli, perché non passi da qui? Guardate dove siamo, guardate, ve lo faccio vedere. Vedete dove siamo? Eh, libreria e libraccio. Lì c'è Piazza del Duomo, dove tutti i signori vanno e comprano. E qui invece abbiamo, e qui abbiamo una persona che chiede aiuto. Hai bisogno di tutto. Io faccio questo appello e io nel mio piccolo tento, tenterò di darti, darti.